bentornati ad un altro appuntamento il settimo per l'esattezza delle nostre conversazioni conversazioni che ci hanno guidato in questo periodo di emergenza da covid 19 e stanno andando avanti anche in questa fase 2 conversazioni che vogliono essere dei focus degli approfondimenti lo ricordiamo su dei temi di attualità prevalentemente temi oggi insieme a noi un caro amico il dottor massimiliano padura ciao massimiliano benvenuto ciao francesca grazie e ben trovata ricordo prima di proseguire ai nostri ascoltatori che ti volesse porre poi delle domande sicuramente nell'ultima parte dell'intervista a massimiliano lo può fare mandando scrivendo insomma come se fosse un convento nella nostra pagina facebook e allora massimiliano diciamo subito perché la tua biografia molto lunga però per sommi capi tu sei docente di scienza della comunicazione sociale presso la pontificia università lateranese docente di sociologia dell'organizzazione del tempo libero presso la pontificia facoltà di scienze dell'educazione auxilium e sei presidente del copper com che per chi non lo sapesse è il coordinamento delle associazioni per la comunicazione della conferenza episcopale italiana e sei anche il membro effettivo del comitato media minori del ministero dello sviluppo economico quindi diciamo l'aspetto della dei social network è il tuo campo principalmente dei media il tuo campo però con te vorrei partire nell'aspetto del tempo libero perché con questa pandemia con questa emergenza in questi due mesi di lockdown il nostro rapporto con il tempo specialmente col tempo libero che è arrivato in esubero no è molto cambiato secondo te decisamente sì se mi permetti io sintetizzerei una definizione di tempo libero cioè il tempo libero è una risultante cosiddetta della modernità cioè quando la società diventa più complessa e quindi quando le istituzioni i ruoli si definiscono si istituzionalizzano e emerge quella che è la cosiddetta organizzazione moderna che nasce con l'industrializzazione accanto ai te al tempo classico che quello del lavoro nasce un'altra necessità cioè quella di avere del tempo libero quindi il tempo libero inizialmente nasce come tempo liberato dal lavoro ma nel corso del tempo assume sempre più una connotazione individuale cioè il tempo libero diventa un tempo nostro un tempo dell'individuo quindi un tempo che fa riferimento anche a processi come l'autorealizzazione come il piacere come il benessere personale quindi la diciamo il contemporaneo la società ci ha abituato ad avere dei tempi sociali realizzati in spazi circoscritti quindi io vado a lavorare in quello spazio quindi in quell'ufficio in quell'azienda in quell'organizzazione poi esco e quindi tutto questo avviene in un tempo circoscritto il classico orario lavorativo esco e ho del tempo a disposizione e quindi posso spenderlo per ciò che mi piace è un tempo libero anche in quanto deliberato cioè frutto di una libera scelta e quindi vado in palestra raggiungo gli amici faccio attività di volontariato quindi quali sono le due caratteristiche importanti del tempo libero sono la condizione spaziale cioè dove lo faccio la location cosiddetta è la condizione scusate gioco di parole temporale cioè quando lo faccio con il covid 19 spazio e tempo si sono dissolti quindi noi ci ritroviamo adesso grazie a dio probabilmente ne stiamo uscendo a vivere ad aver vissuto in un tempo unico sospeso in un tempo dilatato dove le differenziazioni spazio temporali si sono annullate ecco don giussani che il fondatore di comunione liberazione diceva che per capire un giovane bisognava un po osservarlo nel proprio tempo libero ecco cosa cosa ne pensi di questa eh affermazione sono completamente d'accordo il il tempo libero io utilizzo un'espressione forse più eh corretta da un punto di vista semantivo che è quella che la 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 doppia dicitura francese inglese i francesi dicono il loisir e gli inglesi lo definiscono leisure in italiano lo traduciamo tempo libero ma è una dicitura non così così precisa eh sono d'accordo con do giussani cioè il tempo libero le pratiche di tempo libero danno forma all'umanità danno forma alla società ehm perché appunto sono vissute senza costrizione in totale libertà e sono finalizzate appunto al piacere al benessere personale all'autorealizzazione quindi il tempo libero è una sorta di ricompensa da un tempo imposto che è quello del lavoro e quando noi non abbiamo imposizioni quando noi non siamo costretti quando non abbiamo un capo che eh ci dà il ci mette il fiato sul collo certamente siamo più noi stessi e quindi emerge si esplicita maggiormente la nostra umanità la nostra individualità il nostro essere persone quindi mi sembra di capire un po che questo periodo di lockdown ci ha portato un po a rivalutare meglio il tempo che abbiamo assolutamente sì innanzitutto forse si è un po ripreso coscienza con l'importanza dei tempi sociali cioè l'importanza è un paradosso c'è c'è mancato andare a lavorare leggevo dei post su facebook ironici no del romano a cui manca addirittura la fila chilometrica sul grande raccordo anulare quindi in un certo senso c'è mancata l'abitudine e l'abitudine sappiamo è una dimensione rassicurante cioè una sorta di comfort zone permanente nella quale noi appunto viviamo viviamo appunto in modo confortevole in modo abitudinario e quindi è certamente una dimensione rassicurante il covid 19 ha decostruito destrutturato tutto ciò che era ordinario tradizionale e quindi ha messo in discussione anche noi noi stessi ecco un vivere quello di questo periodo di costruzione che si è trasportato sempre di più anche sui social network appunto abbiamo detto che tu sei uno studioso anche di questa materia e anche qui come dire lo abbiamo imparato utilizzarli un pochino di più i social network in maniera migliore peggiore secondo te qual è stato insomma il nostro rapporto allora io dico sempre che il covid il covid 19 l'emergenza sanitaria ha accelerato dei processi che erano o in fase di concretizzazione o erano addirittura latenti cioè c'erano ma erano ma erano nascosti tra questi sicuramente il nostro legame con la tecnologia è indubbio che da come dire la la prossimità con gli apparati tecnologici fosse evidente anche prima dell'emergenza sanitaria però il l'emergenza sanitaria ha accelerato il nostro rapporto con la tecnologia non soltanto in termini di utilizzo è perché ma ma soprattutto in termini di architetture relazionali di apparati sociali cioè noi ci siamo abbiamo in un certo senso traslato la vita in parte della vita in presenza quindi parte della vita fisica offline l'abbiamo traslata online questo vale per le relazioni quindi non lo so i figli che fanno la videochiamata con i genitori o con le videochiamate tra gli amici ma vale un po per tutte le pratiche sociali pensiamo al lavoro a quello che molti forse in maniera un po imprecisa definiscono smart working cioè il lavoro a distanza o pensiamo alla dad cioè la didattica a distanza quindi la formazione scolastica e universitaria trasferita online quindi certamente abbiamo dovuto come dire ripensare le nostre competenze tecniche ma non è stato così difficile anche le persone che avevano più difficoltà tecnicamente sono riuscite penso agli insegnanti più anziani o anche ai nonni sono riuscite ad attivare un meccanismo di collegamento ma quindi non tanto da un punto di vista delle competenze tecniche ma un punto da un punto di vista dell'esplosione relazionale cioè noi ci siamo esplosi socialmente relazionalmente nella tecnologia negli spazi digitali nei social network ma questo secondo te ha un po accelerato anche dei processi di sviluppo tecnologico che sta passando il nostro paese penso al 5g per esempio o a come dire portare la fibra anche in zone d'italia dove prima non c'era secondo te sicuramente sicuramente sì è ovvio che il presupposto per una relazione digitale è l'infrastruttura tecnica non a caso c'è stata la rincorsa ad attrezzarsi tecnicamente pensiamo alle famiglie numerose che hanno dovuto acquistare dei dispositivi in più oppure hanno dovuto installare una rete wifi qualora non l'avessero quindi certamente sì cioè si è consolidato un bisogno e quando nasce un bisogno quando c'è una domanda quando c'è una domanda c'è anche una risposta che naturalmente avviene anche in termini commerciali in termini economici e quindi il riferimento a alla fibra oppure al 5g di cui si è tanto parlato anche in termini complottistici in questo periodo di covi 19 è certamente adeguato nel momento in cui c'è una richiesta c'è una domanda corrisponde anche un'offerta ecco tu hai fatto riferimento appunto alle relazioni no che si costruiscono che si sono costruite anche o consolidate in rete c'è chi ha detto alla fine ne usciremo da questa situazione migliori secondo te così è vero o late speech o comunque sia questo odio che spesso scorre rete diminuirà non so se ne usciremo migliori nel senso che l'individuo fisiologicamente tende a anche a ritornare a situazioni preesistenti quindi non ho come dire degli strumenti ad oggi per capire se saremo cambiati ricordo che a inizio pandemia un articolo di david grossman su repubblica che come dire paventava un mondo diverso naturalmente un mondo un mondo migliore con dei valori quindi il covid come opportunità per costruire un mondo attraverso dei valori più più sani più più adeguati quindi io non sono certo che saremo migliori certamente il covid ha rappresentato uno spartiacque sociale culturale e psicologico tenderemo probabilmente a ristabilire un nuovo equilibrio cioè l'equilibrio si è rotto e questo è indubbio si è svolto quindi l'emergenza è andata adesso l'emergenza diventerà una crisi una crisi economica una crisi lavorativa una crisi educativa quindi ci saranno le conseguenze dell'emergenza cioè dell'esplosione della improvvisa della della pandemia però non sono certo che saremo migliori e pratiche come quella che dicevi tu quindi di late speech quindi il comportarsi male online ehm non probabilmente resteranno probabilmente resteranno ehm e anzi io ho visto che sono molto alimentate durante il periodo dell'emergenza della pandemia sanitaria in quanto la pandemia è un tema che si presta alla discussione e sappiamo benissimo che i social sono anche spazi enormi infiniti di discussione dove c'è il bello sicuramente ma c'è anche tanto di brutto e cattivo sicuramente però ci siamo riscoperti un po' più comunità ci siamo riscoperti un po' più comunità o abbiamo probabilmente ehm costruito delle situazioni comunitarie eh pensiamo a eh la relazione con i vicini di casa il il mutuo aiuto il il mutuo il mutuo sostegno eh questo concetto di comunità probabilmente lo possiamo anche trasferire in rete quindi ehm anche il discorso di social media communities è pertinente in questo momento storico ci siamo scoperti comunità però attenzione comunità non è certamente fare il flash mob eh alle 18 di sera con eh le canzoni patriottiche ma comunità significa costruire relazioni essere prossimi farsi carico dell'altro ehm e soprattutto la comunità il costruire comunità dipende molto anche dal territorio eh eh certamente in città grandi come Roma la città dove viviamo entrambi il senso di comunità è più difficile da consolizzarsi da radicarsi in contesti più piccoli pensiamo all'Odigiano al Bergamasco e quindi alla zona più colpita dal dal virus questo senso di comunità probabilmente si è accentuato e esisteva ma si è accentuato si è eh irrobustito. Allora con te adesso vorrei affrontare un argomento ehm molto importante tu ne hai scritto tanto in questo periodo perché il 18 lo sappiamo dal lunedì è stato fermato questo protocollo per far ripartire le eh celebrazioni all'interno delle nostre chiese ehm però in tutto questo periodo di lockdown ovviamente non si è fermata l'attività eh sappiamo dei nostri sacerdoti e delle nostre parrocchie e tutto si è trasferito in rete ecco ehm la ceila ne ha ne ha parlato attraverso un protocollo diciamo un vade mecum per eh cercare di portare avanti queste celebrazioni ma non sconfinare mh ecco questo è un argomento importante perché chiaramente anche i nostri sacerdoti si sono ritrovati come dire no travolti da uno tsunami tsunami spirituale. Secondo te però come ne sono usciti e questo può essere anche qui una riflessione importante per capire se continuare in un certo qual modo a portare avanti se non le celebrazioni certi eh processi diciamo così intimi anche che eh liturgici che toccano la nostra fede attraverso i social? Il il discorso è articolato così come anche le risposte sono possono essere molteplici ci sono diversi piani di analisi c'è un piano possiamo definirlo teologico teologico pastorale o o spirituale c'è propriamente ecclesiale quindi la necessità del momento liturgico in presenza eh che è mancato quindi questo è un primo piano c'è un secondo piano che io ho definito in un piccolo studio che è un piano estetico cioè la trasposizione online delle pratiche liturgiche eh classiche eh dovrebbe dovrebbe seguire dei canoni estetici definiti e quindi non essere lasciata al caso alla buona volontà alla all'entusiasmo del neofita del 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 dilettante. Eh il primo livello cioè quello ecclesiale teologico pastorale è stato oggetto di diatriba eh anche come dire e di polemiche anche governative i vari decreti e le aperture sì le aperture no e eccetera eccetera. Eh mi 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 intriga di più mi interessa di più il il secondo livello cioè il piano estetico cioè eh la la cosiddetta bellezza pastorale la la bellezza liturgica abbiamo visto eh delle storture eh a volte simpatiche a volte eh che che ci hanno fatto sorridere ma che sicuramente per alcuni aspetti hanno un po' distorto alterato il significato autentico della celebrazione non soltanto per eh come dire la eh eh in incompetenza tecnica ma soprattutto per una sorta di ehm eh predominanza della personalità del sacerdote rispetto a quello che è il dato incarnato rispetto a quella che è l'immagine di chiesa che invece dovrebbe emergere sempre al di là della persona. Il rischio di una azione eh ecclesiale di un'azione di una prassi liturgica in rete è quella proprio di eh creare dei personaggi quindi il prete che diventa un personaggio e quindi come? Un po' un un po' un attore un po' un attore un po' esatto un po' un attore eh e quindi il rischio è compromettere la bellezza l'estetica della liturgia io dico sempre c'è il rischio di passare da un'estetica ecclesiale a una chiesa esteta cioè una chiesa che rischia soltanto di mettersi in mostra soffocando quello che è il dato di 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 fede, il mistero, il presupposto eh di fede, la rivelazione e eccetera eccetera. Questo vale e poi concludo il ragionamento sia per chi appunto con buona volontà si è trovato improvvisato a riprendersi con uno smartphone e quindi a eh girare delle inquadrature improbabili sino a quel sacerdote poverino che ha attivato i filtri dello smartphone ritrovandosi con delle immagini in testa ma vale anche per chi in un certo senso ha mh interiorizzato così tanto i codici i tempi e gli spazi della cultura digitale da diventare uno youtuber e sono nati in questo momento in questo periodo dei preti youtuber eh probabilmente insomma uno è eh più eh famoso degli altri ma non è l'unico e anche lì io metterei una sottolineatura anche lì il rischio è questa ehm come dire eh riduzione eh al al personaggio riduzione al al prete youtuber al prete digitale e non il senso autentico il senso ultimo che dovrebbe essere quello della liturgia della prassi pastorale vera e propria. Certo sicuramente i liturgisti avranno fatto eh come dire grandi salti sulla sedia probabilmente vedendo tutte le celebrazioni ma secondo te questa prassi potrà andare avanti comunque in un certo qual modo a prescindere adesso che si ripartirà fisicamente? Io 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 credo io credo di no credo che le le celebrazioni eh classiche quindi penso alla messa ritorneranno ritorneranno in presenza ehm è importante sottolineare come la trasmissione della messa non è qualcosa di nuovo cioè è un è un genere è un genere che nasce con la televisione la prima messa in televisione è stata trasmessa sette giorni dopo eh l'inizio delle trasmissioni televisive in Rai nel mila novecentocinquantaquattro e da lì ogni domenica la messa è stata trasmessa in televisione non è un discorso di messa in scena è un discorso proprio di eh essenza autentica della dimensione ecclesiale eh io credo di no certamente il prete così come l'insegnante così come il genitore così come il nonno ha esplorato è sperimentato le opportunità del digitale e quindi questo non toglie che incontri parrocchiali eh anche catechesi incontri con gruppi eh possano essere fatte attraverso modalità a distanza. Poi oltretutto a proposito di messa in televisione ricordiamo che eh Papa Francesco insomma la messa di Papa Francesco a Santa Marta ogni mattina veniva trasmessa addirittura l'adorazione eucaristica ed era molto seguita probabilmente anche da qualcuno che non l'aveva nemmeno mai vista prima. Assolutamente assolutamente anzi adesso lo è ancora di più perché anche il servizio pubblico radio televisivo la trasmette alle sette ogni mattina ed è interessante notare come eh questo vale un po' per anche per altre eh rappresentazioni sacre penso per esempio a Rosario da Lourdes che trasmette TV2000 ogni sera o agli appuntamenti settimanali con il Rosario sempre trasmessi da TV2000. Se voi notate il minimo comune denominatore non è eh l'estetica la rappresentazione scenografica ma quando il Papa parla e il Papa a parlare cioè noi percepiamo l'essenza di quello che dice Papa Francesco e indipendentemente dal posizionamento della telecamera dalle luci corrette o da altri artifici tecnici che possono essere buoni o meno buoni. Quando il la narrazione è autentica e quindi la messa da Santa Marta il Rosario da Lourdes o rappresentazioni di questo tipo o narrazioni di questo tipo gli spettatori ci sono sempre perché riescono a cogliere come dicevo prima il mistero il dato di fede la rivelazione e non soltanto il contorno la messa in scena. E oltretutto ricordiamo che insomma le immagini che ci sono arrivati in questi mesi dal dal Vaticano dalla città del Vaticano che ci ha trasmesso Papa Francesco sono state anche molto forti dal punto di vista mediatico. Beh sicuramente la il venti la la meditazione no la la preghiera del ventisette marzo quindi Papa Francesco da solo in questa piazza eh San Pietro bagnata dalla pioggia che eh si rivolge al crocifisso chiedendo eh di eh far concludere appunto la la pandemia è un'immagine che resterà eh nella storia a già rappresenta un universo simbolico un immaginario collettivo e e quindi assolutamente la forza dell'immagine in quel caso la forza televisiva rimandata poi attraverso i social attraverso i spazi digitali è stata è stata forte è stata prepotente. Allora io vorrei chiederti eh un altro aspetto insomma in merito a a all'aspetto della prossimità eh voglio ricordare anche il tuo ultimo libro che tra l'altro è proprio uscito all'inizio di quest'anno edito dalle edizioni paoline e ehm e si chiama Comunica il prossimo tuo cultura digitale e prassi pastorale e tu parti proprio dalla declinazione diciamo delle del comandamento omerai il prossimo tuo come te stesso in una società digitale quindi quanto è importante riuscire ad essere prossimi anche concludere tutto questo discorso che abbiamo fatto. È fondamentale essere prossimi naturalmente l'ispirazione non viene certamente dal dal comandamento più umano che c'è ama il prossimo tuo come te stesso ma viene anche da la cosiddetta categoria della proximidad utilizzo il termine spagnolo perché lo citò eh lo utilizzò l'allora eh cardinale Bergoglio eh a Buenos Aires nel corso di una relazione proprio sulla comunicazione e e già Bergoglio prima di diventare papa vedeva nella categoria della prossimità il rimando alla comunicazione cioè la prossimità è una categoria comunicativa è la strada la via il percorso attraverso cui noi possiamo fare comunicazione non a caso il la grande metafora la grande immagine della del buon comunicatore è l'uomo che si fa prossimo per eccellenza ovvero il buon samaritano cioè colui che non è indifferente colui che non infierisce sul moribondo quindi per fare un esempio che facevamo prima non 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 lo insulta non 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 è odiatore non non fa hate speech ma che cosa fa se ne fa carico quindi gli va incontro cioè entra entra nelle sue ferite entra nelle sue sofferenze e le cura e e questa è la grande sfida della comunicazione contemporanea che è una comunicazione sempre più destrumentalizzata e sempre più sbilanciata sulle categorie umane se la comunicazione sarà capace di farsi prossima cioè di comunicare l'altro come se stesso cioè se l'uomo sarà capace di comunicare l'altro come se stesso allora probabilmente parti a partiremo da un da un buon punto da una buona posizione beh quindi la prossimità eh penso già che questo sia un consiglio importante perché ci sta seguendo e fa comunicazione in rete perché ormai tutti siamo eh in rete insomma sui social network purtroppo il tempo è veramente tiranno stiamo per chiudere questa bellissima conversazione ma c'è Anna Ingravallo tra l'altro che è una nostra scontratrice che ci segue eh che ci ha scritto sociologicamente perché la pandemia non ha attenuato l'avvelenamento abituale dei social in termini di critica politica che dovrebbe forse essere meno finalizzata ad evidenziare la presunzione degli utenti nel capisco tutto io solidarietà e anche starsi in un po' in silenzio e fidarsi la ehm nel giornalismo ehm esistono i cosiddetti criteri di notiziabilità cioè che cos'è il che cos'è la notiziabilità è ciò che ehm dà valore di notizia ad un fatto se io eh scivolo sulla buccia di banana non è un fatto notiziabile se c'è una pandemia mondiale è questo il fatto più notiziabile che possa succedere e quando un fatto è notiziabile cioè è degno di essere notizia che cosa succede è fagocitato è stritolato prima era stritolato soltanto dai cosiddetti media mainstream pensiamo alle grandi emergenze degli anni dei decenni scorsi pensiamo alle grandi catastrofi nucleari ehm chernobyl per esempio o alle guerre adesso i social che cosa hanno fatto hanno spalancato le opportunità quindi quindi il 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 notiziare il raccontare non è più un'azione esclusiva di una certa parte della società quindi dei giornalisti degli scrittori delle redazioni televisive ma abbraccia tutti tutti quanti noi diventiamo notiziatori cioè costruttori di notizie e quando raccontiamo come dicevo prima possiamo raccontare bene ma possiamo anche raccontare male purtroppo l'individuo comune non ha i codici deontologici ed etici che dovrebbe utilizzo il condizionale avere un giornalista e molto spesso si perde cioè cade in tentazione cede alla tentazione di disumanizzare la propria comunicazione quindi la pandemia è stato un humus fertile un terreno fertile anche per l'odio per le speech e per tutto quello che ne consegue allora siamo veramente in conclusione per chiudere questa chiacchierata bellissima vorrei chiederti una tua raccomandazione da darci per vivere meglio in rete secondo te rieducarci all'umano non è un non è non non è una questione di educazione ai tecnicismi tutti quanti noi siamo stati capaci di collegarci su una piattaforma di incontro a distanza tutti quanti noi sappiamo utilizzare un social quindi non è una questione di competenza quello che noi dobbiamo fare è rieducarci alle categorie umane alla bellezza alla giustizia alla bontà al rispetto della dignità della persona all'intelligenza al discernimento alla alla selezione di ciò che è bello e ciò che è brutto quindi dobbiamo rifarci carico siamo da sempre stati abituati a dare la colpa a qualcun altro no è colpa della televisione ed era giusto noi eravamo spettatori cioè aspettavamo ed era colpa di qualcun altro adesso non siamo più spettatori siamo spettatori cioè agiamo possiamo agire possiamo produrre contenuti possiamo essere fonti e quindi dobbiamo anche ritornare ad un senso di responsabilità molto più forte molto più incisivo quindi i media siamo noi i media siamo noi grazie grazie mille a massimiliano padura per questa bellissima chiacchierata su il tempo sui social network e invito insomma tutti a rivedersi questa chiacchierata ma continuare poi a seguirti anche nei tuoi canali e invece per chi ci sta ascoltando ci vediamo martedì per chi volesse per parlare di sport grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti